La benedizione Urbi e Torbi natalizia di Papa Francesco è stato un inno contro tutte le guerre a partire da quella siriana. Continuiamo a pregare il Signore perché risparmi all'amato popolo siriano nuove sofferenze e le parti in conflitto mettano fine ad ogni violenza e garantiscano l'accesso agli aiuti umanitari. Il Papa ha ricordato anche le tragedie del Mediterraneo, auspicando che i migranti trovino accoglienza, un pensiero andato anche ai bambini in guerra. Volge il tuo sguardo a tanti bambini che vengano rapiti, feriti e uccisi nei conflitti armati e a quanti vengono trasformati in soldati derubati della loro infanzia. Buon Natale a tutti!